ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video un altro episodio particolare diciamo che particolare perché perché mi sono reso conto che quando mi arrivano i video la gente mi augura ancora buon natale e siamo a febbraio quindi vuol dire che ne ho molti di arretrati ancora da dipanare sul canale no questo mi fa piacere perché mi state inviando un sacco di video tantissimi video solo che poi il problema è stargli dietro cioè riuscire a darvi un poco poco tempo no dalla vostra dal vostro invio alla pubblicazione che passi poco tempo così stanno passando più di quasi due mesi quindi ho pensato bene di fare una puntata fiume una maratona cioè ho messo dentro una marea di video in un botto solo saranno 11 12 non lo so dipende anche poi da quelli che scarto quelli che non scarto e fare una puntata che viene lunga una puntata di ore non so quanto durerà mi sono anche preparato con i liquidi per idratarmi perché non si sa mai perché potrei anche avere la peggio e quindi viene fuori una puntata di non so quanto tempo viene dovrebbe venire fuori lunghissima e quindi sarebbe anche il caso che non stessi qui a parlare troppo e cominciassimo subito a fare questa maratona che tra l'altro essendo il 14 febbraio è dedicata la maratona di san valentino hai capito cioè voi si potete che stai guardando che sei solo come un cane in questo momento invece di festeggiare con la fidanzata sei qua a vedere i miei video e quindi è per te un'ora e passa un'ora e mezza non so quanto dura di video ah sei contento dai allora lo giorno è questo simpatico long jean legend diver da 39 mm ormai lo conoscete quadrante nero calibro l 888 certificato cronometro le sue bellissime doppia doppia corona no una per regolare la bag interna 300 metri di impermeabilità precisissimo bello 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 a proposito volevo farvi vedere la tazza che me l'ha me l'ha fatta me l'ha mandata un follower l'ha fatta realizzare lui è simpatica e non è simpatica è la tazza simpatica è sì 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 whisky è whisky primo video ciao davide ciao alessandro alessandro farti i complimenti per la per la tua trasmissione trasmissione grazie seguo sempre con molto interesse e e che mi dà soprattutto tanti spunti di riflessione in questo nostro mondo questa nostra passione che sono gli orologi e voglio presentare la mia collezione facendo una piccola premessa la mia collezione è una per mia scelta una piccola collezione dove presento un orologio per tipologia perché preferisco non avere troppi orologi e in maniera tale che riesco ad indossarli e a vivermeli bravo iniziamo subito con il mio every day watch che è questo rolex day just 36 mm con ghiera liscia e bracciale oyster questo è l'orologio che indosso praticamente tutti i giorni o comunque molto spesso perché lo trovo molto sobrio molto elegante e mi ci trovo molto bene e non ha bisogno di ulteriori commenti monta un calibro rolex 31 35 e è veramente un orologio funzionale funzionale da su per quanto riguarda invece i cronografi ti presento il mio omega speed master reduced e 39 che fanno vedere il movimento reduced un orologio molto criticato dalla community io sinceramente avevo provato anche il il professional ma sul mio polso da 17 non era il massimo per cui ho preferito acquistare questo questo reduced di seconda mano ma praticamente è un nose pari al nuovo ora ti dici io pensavo fossero mega speed master professional è partito al top ma non è partito perché l'ho ritirato subito e l'ho ritirato subito perché a sto qua non glielo do il top al reduced non glielo do il top soprattutto perché perché uno vabbè il calibro il calibro così diciamo questo qua a moduli no moduli sovrapposti non è che mi dia quel gran fastidio e anche in altri orologi lo comprerei non è un problema no però rispetto al calibro del moon watch dell'omega speed master professional è un passo indietro è un passo sotto anche due no e poi è proprio l'aspetto l'aspetto questo qua mi sembra quasi che vuole essere il fratello scemo dello speed master moon watch hai capito con questi quadri anche sotto quadranti così strabici e lontani uno dall'altro è troppo simile piuttosto se te l'hai scelto per la misura compatta ma potevi anche scegliere altri orologi altri speed master che sono compatti l'ho fatto vedere c'è anche un un coaxial che a 38 mm di diametro c'è il first omega on space che è 39 mm quindi ci sono gli altri speed master che sono un po più compatti senza essere professional no 42 senza andare su reduced che secondo me è un po una no non lo condivido non mi piace non ho mai preso in considerazione non lo considero praticamente pure essendo un amante di omega su questo non potete dirmi niente lo porto con molta scusa sono molto contento di indossarlo e mi piace moltissimo non allungare le vocali ecco non allungate le vocali andiamo avanti il mio diver è questo tudor pelagos 39 mm con cassa e bracciale in titanio ci piace in questo momento lo vedi con il suo secondo cinturino di serie che è un cinturino in gomma in cauccio ma adesso ti faccio vedere anche il suo cinturino il suo bracciale originale e che tra l'altro è molto bello perché è un bracciale faccio vedere subito eccolo qua è un bracciale rastrellato per cui da un effetto molto bello molto rastrello al polso e soprattutto cos'è l'effetto rastrellato cioè quando uno rastrella il giardino rastrellato forse vorrei dire rastremato con la m cinturino in titanio è assolutamente leggerissimo e portabilissimo ti dicevo tudor pelagos 39 mm casse bracciale in titanio la corona serrata vite questo è il suo fondello è semplice e 200 metri di profondità e monta un calibro in house mt 5400 con 70 ore di riserva di carica bravo la cosa che mi piace molto di questo tudor è che è uno dei primi segnatempo della tudor che non si rifà spudoratamente alla rolex ma che ha una propria carattere una propria identità e che non assomiglia a rolex ma una propria un proprio carattere certo mi piace moltissimo è il concetto che ho sempre espresso io su tudor tudor è un gran bel mar che è uno di quelli che sta vendendo a tonnellate e fa orologi belle cioè quando esce un tudor è difficile che sia brutto no però un pochino più di personalità come in questo caso il pelagos è perfetto gran bello orologio con per per personalità per identità bello infine volevo un dress watch quindi un orologio un po più formale anche se poi lo indosso in tutte le occasioni tante volte anche in estate anche con una t-shirt ed è questo long in conquest automatic 35 mm con il suo bellissimo fondello questo è un orologio che ha una portabilità spettacolare perché pesa veramente pochissimo ha il sobracciale in pelle di vitello e lo trovo un orologio veramente molto elegante nonostante abbia datario e sfera dei secondi che lo allontana dai canoni di un dress watch però lo trovo assolutamente un orologio molto elegante e lo indosso anch'esso nelle varie occasioni formali bravo infine ultimo ma per primo in ordine di importanza questo rolex date 35 mm del 1971 sarà 34 che mi ha regalato mio nonno che non c'è più quindi per me in assoluto è l'orologio più importante della mia collezione e sarà l'unico orologio che sono convinto di non vendere mai non di non lasciare mai l'ho fatto revisionare va benissimo bravo originale in ogni sua parte compresa la corona e a questo bracciale in acciaio ma è tipo lamierino sottile però era il bracciale dei suoi tempi e assolutamente non cambio nulla non l'ho fatto neanche lucidare e l'ho fatto soltanto revisionare e ci sono molto affezionato con questo è tutto la mia collezione finisce qui ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e l'opportunità che mi hai dato di descrivere i miei orologi e ti rinnovo i complimenti per la trasmissione e ti saluto alla prossima alla prossima complimenti per la trasmissione mi piace sempre come frase complimenti per la trasmissione hai fatto vedere quest'ultimo rolex date no è la 34 mm date degli anni 70 di tuo nonno e poi ha evidenziato il fatto che abbia il bracciale con le maglie ripiegate io ho fatto anche un video che si intitola non comprate rolex vintage no un bel titolo clickbait che in realtà era però riferito non tutti l'hanno capito ai neofiti a coloro i quali a quelli che sono fuori dall'ambiente della passione no a quelli che dicono ora mi compro un rolex per fare il figo vanno su crono 24 lo li ordinano per prezzo crescente no per vedere quelli che costano meno si trovano davanti appunto un rolex date on precision o quello che vuoi te degli anni 60 70 quelli che costano di meno e dice mi faccio il rolex no e si compra quello meno costoso vintage che per essere acquistato ha bisogna di una certa conoscenza cioè deve essere apprezzato deve essere collezionisticamente valutato no valorizzato in questo senso invece ci sono quelli che comprano il rolex meno costoso che c'è e poi gli capita un rolex che non corrisponde ai canoni di qualità estetici di quelli moderni no il bracciale è leggerino maglia ripiegata la claspe è il lamierino piccolina i finali magari sono vuoti ballano il vetro di plastica quindi per comprare a tutti i costi un rolex si ritrovano una cosa che non corrisponde a quello che avevano testa loro avevano testa bell'orologio robusto lucicoso nuovo no è quello che intendevo dire però noi appassionati non dobbiamo denigrarli perché a quei tempi erano tutti fatti così anzi è un valore aggiunto il fatto che abbiano queste debolezze perché è la fotografia dei tempi io voglio un orologio di quei tempi lo voglio con tutti i pregi e difetti di quei tempi detto questo ti faccio anche complimenti per tutti gli orologi perché sono tutti belli tutti proprio veramente che vorrei anch'io no anche lo anche il reduced ma cosa ne frega lo vorrei gratis senza pagarlo e poi è praticamente è una tipologia giustamente una tipologia per ogni per ogni stile no dress dive cronografo e ti invidio da un certo punto di vista perché riesci con pochi orologi ad andare avanti io non ci riuscirei cioè ogni volta che c'è no uno e guardo già il prossimo non so cos'è una malattia sarà una malattia però mi piace già proiettarmi verso il futuro no ecco poi magari ogni tanto uno di quelli vecchi lo posso anche sacrificare per andare avanti di uno senza svenarmi no però è sempre a vedere cosa posso cosa posso cosa voglio provare toccare no gustare assaggiare è questo prossimo video ciao davide mi chiamo ciao caro ti presento la mia collezione di orologi partendo dai modelli un po più recenti e spostarci piano piano fino ai vintage vedo già questo rolex date just referenza 16 234 anno 2011 in acciaio con la sua corona zigrinata in oro bianco indici a bastoni super luminova cassa da 36 vetro zaffiro con piccola lente cyclops sul datario e alternanza di colori rosso nero sulla data tra giorni dispari e pari e piccoli numeri romani anche all'interno del quadrante certo bracciale oyster che mantiene molto bene i suoi anni mamma mia per l'ho trattato è beh un omega speed master professional da 42 moon watch calibro 861 lo stesso calibro che ha preso parte al polso del colonnello e poi astronauta ovviamente thomas stafford alle missioni appollo 10 e gemini 9 questo è un modello del 1997 in particolare mi piace molto il fatto che gli indici inizino già fare un po di patina cronografo a sinistra abbiamo i secondi a destra i 30 minuti e in basso nel terzo sub dai al cento sì però non dovete essere così didascali c'è anche sul day just di prima hai fatto la scheda tecnica più che altro interessa quello che pensate voi cosa perché l'avete preso cosa non ti piace no che mi devi dire i tre coltatori a cosa servono siamo un po glaciali così molto molto bello mantiene sempre bene i suoi anni e sui anni il suo fondello logato logato tutte le sue scritte è certo chiuso bello bello c'è il logo omega speed master bravo un orologio ispirato alle corse in particolare anziché in realtà ha fatto poi la grande storia anche legato alle corse tagoyer monaco edizione golf golf questa la seconda edizione la prima era leggermente diversa anche nei colori del quadrante sessantesimo anniversario questo anche in questo caso super luminova cronografo come nel caso dello speed master piccola data però a ore 6 in questo caso non facilmente visibile ma comunque molto molto carina è stata una cosa molto bella questa perché questo sessantesimo anniversario è stato regalato poi a mio papà da noi per i suoi 60 anni quindi è caduto un po tutto fagiolo fagiolo movimento di manifattura oyer anzi tagoyer calibro 0.2 o meglio tagoyer calibro 0.2 100 metri di resistenza all'acqua in profondità anche se non è un orologio tipicamente da spiaggia colori e livre a golf come appunto dice la sua edizione e un must cassa da 39 diventato famoso anche perché era l'orologio di steve ma non per nulla anche lui king of cool almeno un fan pazzire bello un frank miller bello long island cassa da 45 un orologio abbastanza importante anche livello di spessore la sua corona lugata un bel cioccolatore sono molto belli dal mio punto di vista il modo in cui il numera i quadranti frank muller a ore 6 vediamo tra l'altro un piccolo datario proprio incassato dentro al numero anche qui non di facile lettura però comunque al suo perché assenza della lancetta dei secondi in questo caso e al polso è un orologio importante io ho un polso da 18 e mezzo non particolarmente grande nella norma però devo dire che sta bene ma sì mi piace molto anche il cinturino è veramente molto molto spesso in coccodrillo però un altro master ovviamente master of complication anche qui per un motivo continuiamo poi con un rifacimento di un orologio anni 40 di eberhard un extra fort anno 2001 per questo orologio un altro cronografo molto bello particolare anche qui piccolo datario r6 corona a vite movimento automatico come automatico tra l'altro era anche il frank muller che abbiamo visto prima anche il tagoier monaco mentre l'omega speedmaster era meccanico il rolex ovviamente automatico va bene gran bell'orologio il suo fondello logato se ti dilunghi un po da momento spesso non ne ho visti moltissimi in giro forse anche per questo uno dei motivi per cui mi piace molto due sub-dial molto minimali al suo interno da una parte i secondi alla sinistra e invece alla destra i 30 minuti mi piace mi piace molto lo metto molto molto volentieri spiegaci tutti i quadri continuiamo poi con un emilton khaki field meccanico orologio originale emilton monopezzo anche in questo caso logato e qui l'altro suo cinturino originale che ha visto giorni migliori ma giustamente uno gli orologi li compra per usarli divertiti particolare questa è una versione particolare perché hanno fatto solamente 3333 modelli di questo orologio ed è dell'anno 2003 comprato a new york l'ho mai visto la prima volta molto molto bello tra i vari cachi avere un'edizione limitata è quel qualcosa in più dai ci sta di particolare ci sta prima volta che lo vedo bravo tutti gli orologi danno scatola garanzia originale qui dovrebbero esserci quasi tutto c'è anche panettone raggiù meno e passiamo al vintage con questo vetta in oro movimento automatico inca block 25 gioielli questo è l'orologio della cresima di mio padre 18 carati ad oro sua piccola fibbia logata mio coroncino originale sempre in oro non logata in questo caso carino datario ore tre piccolino è un 34 così era quelle misure misure che andavano quelle misure che davano quegli anni di 60 70 la maggior parte dei lungini che cioè io 34 35 quando trovi un 36 stappi lo spumante anzi mi faccio anche la bevuta perché stappi lo spumante 38 poi è per quello che poi bisogna anche stare attenti perché siccome erano tutti 34 35 alcuni mastrocchioni fanno e mettono e prendono i calibri della longin per esempio non mettono una bella casa da 38 che non è mai esistita no inventata e ti vendono il longin da 38 mm e tutti si buttano a pagare i soldoni per avere un bello orologio a 38 mm sul polso che lo copre un meglio no non esisteva quindi per dire no sono esistiti però quel modello lì è stato fatto su misura per il cliente pagliaccione e quindi è per quello che quando si va sui 34 35 sei quasi sicuro che insomma 38 gli orologi 39 39 vinte c'erano mai visti di questo tipo qua comunque ci siamo capiti no forse più qualche anno fa che adesso ma devo dire che comunque sta sempre molto bene al polso omega si master in questo caso molto semplice in acciaio la sua coroncina originale logata la sua fibbia originale logata cinturino non originale volevo prendere ancora più che questa referenza una referenza di fine anni 60 metà anni 70 con bracciale a chicchi di riso dei date però quando ho visto questo con questo quadrante virato champagne comunque molto semplice molto sobrio mi sono innamorato l'ho preso praticamente subito fatto bene ve lo manderò in revisione brava bello perché comunque merita il giusto trattamento anche questo mega di film metà anni 50 seconda metà anni 50 primi anni 60 poi continuiamo poi con questo seico 7005 8000 dove 7005 è il movimento 8000 la referenza di cassa conosciuto anche come baby king in acciaio perché riprende molto le fattezze poi del king seico di pochi anni dopo day date sì day date soltanto data questo molto semplice movimento automatico 17 gioielli fondello logato anche in questo caso mi è arrivato non con il cinto cioè non braccialato ma con un cinturino aftermarket nero mi piaceva di più mettergli un cinturino come questo ma forse lato installato non è abbastanza elegante per l'orologio continuiamo poi con un eberhard vintage diversi anni fa questo non saprei neanche ben datarlo questo qua gli hai messo a proposito cinturini gli hai messo un cinturino molto più grande di ansa di quello che deve essere guarda lì come sborda lo vedete che anche che è tagliato l'ata anche tagliato per infilarlo nell'ansa sarà un'ansa da 18 da 16 addirittura cinturino da 20 qua casca l'asino è un ritrovamento di un mercatino esattamente il mio pa quadrante dire virato è una gentilezza è distrutto ormai però anche rifarglielo gli fa perdere un po il gusto del movimento meccanico cinturino sempre eberhard con fibbia logata sì ma non è suo successivo ovviamente i suoi anni è troppo largo si fa mettere è carino sta bene anche appunto come dress watch è più largo il cinturino che l'orologio un cronografo d'oro questo è l'orologio di mio nonno un cima cima anno 1955 cima era negli anni passati parliamo degli anni venti forse la punta di diamante dell'orologeria svizzera almeno per quanto riguarda quantità di produzioni particolarità anche di di movimenti che facevano anche in house fino a poi arrivare a calibri eta questo che va giù avanti negli anni si potevano trovare come cima cima tavannes o tavannes venivano marchiati in questo modo perché erano tutti della stessa famiglia poi negli anni 70 questa marca è stata assorbita dal gruppo sincron di cui fa parte anche doxa tra gli altri e non sarebbe sentito parlare ma loro è il brevetto del primo orologio impermeabile avevano creato anche un orologio veramente molto molto sottile da 4 millimetri tra la fine degli anni venti gli anni 40 e particolare a questo cinturino giallo che mi piace molto ovviamente non è originale c'è ancora anche il suo originale fibbiato ma purtroppo ha fatto il suo tempo e questo lo ha rinfrescato un po questo longin anche questo orologio dell'altro mio nonno però in questo caso oro tutto d'oro bello placcato ma proprio oro la sua fibbia logata sempre in oro originale cinturino non originale e il quadrante purtroppo è stato ristampato in questo caso era veramente illeggibile e per continuare a utilizzarlo serviva una rinfrescata di questo tipo va bene comunque molto bello si mette veramente pace molto piacere e soddisfazione non avevo ancora detto qualcuno lo doveva dire prima della fine di questa piccola review dei miei orologi davide io ti ringrazio ripassando un attimo velocemente su tutta la mia collezione ti ringrazio di sei diventato ormai un appuntamento fisso per me e mio papà tutte le sere grazie continuo così grande c'è poco da dire c'è degli orologi belli c'è i pezzoni e c'è i vinteggini che anche tra i vinteggini ci sono dei pezzoni perché anche i cronografini li poi il longin d'oro anche se quadrante è ristampato tutti i orologi simpatici dai non ho nulla da dire fammi un po rivedere un attimino cosa dicevano tata 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 e frank muller bello particolare grosso c'è il eberhard del cronografo che tanta roba quella emilton cacchi particolare bene anche vintage sono simpatici a parte quello del quell'eberhard che c'è il cinturino più largo della testa fra un pochino cioè si vede anche e fatti qualcosa mettiti un cinturino come si deve uno dei suoi più più sottili cioè più stretti no ok giustamente te le stampa non la fai fare e non farla perché già rovinato così di per sé anche una pulizia lo rovinerebbe perché secondo me vengono via le ultime le ultime scritte vengono via troppo facilmente lascialo così vivilo così il tempo passa e pace no dai prossimo video ciao davide è la terza volta che rifaccio il video perché lo faccio durare troppo arrivo a 12 minuti vado velocissimo ci siamo visti a vereggio l'estate scorsa metto la foto se riesco mi sono appassionato di orologi da aprile di quest'anno prima avevo dei quarzon che ti faccio vedere no serve vedo dove lo perdi il tempo ti mando il video a lussemburgo ma originariamente la mia famiglia vive a ravenna io sono napoletano bene orologio che mi ha accompagnato dieci anni lockman cavallo pazzo referenza di lockman delle prime una delle prime referenze del 2000 ma è sempre piaciuto tanto design molto particolare un quarzon movimento miota crono a me piace il quadrante e quindi anche se te no magari non piace a me piace quando si è rotto ancora non mi ero appassionato ne ho comprato un altro su vintage ma è un'altra referenza 46 invece di 39 è un po grandino non lo metto quando si è rotto ne hai comprato un altro cioè ti si è rotto l'orologio non funziona più è da buttare via ne hai comprato un altro cioè se proprio a siamo all'antitesi del dell'orologeria no mi si rompe o succede no e lockman vabbè si rompe lo porto a riparare in qualche modo l'orologiaio lo ripara tutto 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 il pretiene pronto si è rotto l'orologio via ma nel cassetto che poi cassetto del posto dovrebbe stare sempre al buio in disparte e in punizione questo orologio qua ne copri un altro uguale perché se è rotto quell'altro puoi vedere che non si rompe anche questo da vedere metto però lo tengo mettibile però lo tengo perché nella collezione e poi credo sempre appassionarmi questo fratellino sempre 39 col quadrante in madre perla referenza 161 le frecce blu ma cos'è che sembra un gioco da tavolo cioè giochiamo monopoli questo qua è il coso da mettere da giocarci sopra con le pedine ma che roba è ma com'è st'orologio qua ma quanti colori c'ha paperino arlechino cos'è la cassa così sembra sembra un transformer con quella cassa lì vabbè ognuno compra quello che vuole ma ma scusami ora dici che hai rifatto tre volte che perdi tempo perdi tempo per forza stai perdendo del tempo a farmi vedere tre orologi che non vorrei mai vedere in vita mia ma è giusto che te l'insultano e niente questi sono i miei tre lockman quarzoni cavallo pazzo un modello diciamo inizio 2000 bello mi piace poi primi automatici sono partito aprile 23 con questo seico 5 preso in gioielleria centro commerciale per cominciare piano piano ma ricordo un po il day just e quindi mi metto un po l'imbarazzo perché chi non ne capisce mi dicevi day just e invece no chi non ne capisce dice ma come sembra il day just è completamente differente dal day just ma dove come come facciamo a confondere un day just ma chi frequenti ma dove vai ma dove vivi e poi ti metti l'imbarazzo te ti senti l'imbarazzo te non devi sentire l'imbarazzo te devi sentire normalmente orgoglioso cioè e pensare che sono gli altri che non capiscono una minchia è capito di un po di imbarazzo però a me piace qua delante sui leil e via e via ovviamente 72 s stesso giorno preso anche questo perché l'ho visto l'ingegneria quindi li ho presi tutti e due visto che costavano poco qui lussemburgo citizen pro master lo conosciamo movimento miotto 8204 ho preso anche il fratello un mese dopo l'ho preso perché automatica scritto sopra il modello un po diverso la corona queste logata questo no mi sembra questo sia più moderno più elegante questo siamo più datato proprio datato la corona qui i numeri sono più grandi qui più piccoli e quindi volevo avere tutti e due modelli e poi volevo mettere il cinturino giallo come il tuo a tutti e tre perché ultimamente questo mese ho preso anche il suo fratello nuovo il loro fratello nuovo eccolo qua il movimento è lo stesso mi dà un po fastidio questa corona grande nella mano quando vado in bici fa così e mi fa il segno e mi fa male comunque bello e lo mesuserà quest'estate al mare tutti e tre hanno il cinturino in gomma morellato che mi piace molto quindi uno nero uno giallo uno blu sono i tre fratellini citizen ma che ansia che fai venire ragazzi cioè non è che uno deve andare velocissimo per per guadagnare tempo deve razionalizzarlo il tempo deve dire cose interessanti nel più breve tempo possibile ma non più velocemente possibile hai perso anche perdi anche del tempo a dire delle a far la pubblicità delle cose delle di volevo dire anche che questo qua questi due hanno il fermo macchina mentre questo non ce l'ha quindi diciamo di questo vecchio modello questo mi sembra più moderno come stile però non ha il fermo macchina via i citizen primo orologio un po serio che ho comprato a bruxelles da un privato polpicò crono sport movimento va giù 7750 molto elegante tutto in acciaio crono in acciaio questo bracciale non so come si chiama se lo sai te il modello di questo bracciale la maglia come si chiama bellissimo mi piace tantissimo molto molto elegante funziona benissimo revisionato la scritta crono sport ricorda un po il daytono purtroppo però per il resto è stupendo e i colori stupendi mi piace un po alto 7750 per me non è un problema a me piace un bel fondello e via 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 ultima inquadratura bello a me piace bellissimo bracciale ci ho messo anche il cinturino nero sta benissimo ma volevo fare il video con questo stupendo bracciale poi per il mio compleanno ho preso tudor iron out che dire l'ho cercato mi sono innamorato stato difficile trovarlo in questa referenza che quella che volevo che ho bracciale in gomma tutto logato tudor sinceramente la prima volta che vedo questo tudor qua io oh ragazzi tiratemi le sassate dite quello che volete la prima volta che lo vedo è fortunatamente la prima volta perché se no se l'avessi visto prima mi sarei spaventato prima perché non mi piace proprio brutto c'è troppo ma quei numeracci 10 2 4 e 10 il 2 4 8 sparsi così nel quadrante giganti ma non mi piace gmt si bloccano i pulsanti si bloccano si girate comunque questo fa andare avanti l'ora questo fa andare indietro questo fa il push della data bellissimo sottovalutato se ne parla poco se ne vedono pochi ce ne sono pochi in vendita questa referenza non c'è in vendita in questo momento non si trova mi piace ora una cosa che noto io è le spallette di protezione la corona perché uno dice è così con gli urti si protegge la corona e il calibro sì ma quelle altre tre spunzoni che vengono fuori lì così a giangetto e le prendono loro i colpi cioè è inutile che metti le spallette di protezione quando prima c'è quei due pulsanti lì che non è nemmeno un cronografo sono pulsanti per regolare l'ora e la data cioè un esercizio di stile fammela regolare della corona l'ora e la data come al solito c'è pulsanti così quando prendi un colpo sui pulsanti lì che lo prendono prima loro il colpo che non la corona vedrai che bel danno che fai poi si vede che vuole essere sportivo un tool watch vuole essere no con i pulsanti così da soli lassù non ho ancora fatto revisionare questo ma funziona benissimo bello 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 referenza 2200 movimento è un eta 20 92 28 92 modificato ma non mi interessa perché l'orologio è bellissimo in più l'ho pagato anche poco perché l'ho pagato 2500 euro mei goioni bello 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 io li spendevo altrove l'orologio che ho cercato tantissimo edox delphi in day date braccialato 200 metri in permeabilità movimento sellite sv 200 dettagli stupendi bello massiccio ci sono andato al mare tutta l'estate ecco questo qua è il delphi qua è un orologio iconico dai sciupiamo questo termine oggi lo giochiamo per la mia volta della casa e anche della storia dell'oroggeria negli anni 70 bello mi piacicchia mi piacicchia non so se lo comprerei veramente proprio la chiusura farfalla insomma va bene sì bello è bello l'orologio suo delfino per me è rivale di icon di raymond veil maestro stessa fascia di prezzo ma è l'icon non piace per niente al contrario tuo e questo invece mi fa impazzire 43 mm un po' padelloso 43 mm è già detto tutto l'icon l'icon non ti piace no l'icon l'icon si dice non ti piace però io ce lo si vede così ora a occhio nudo che le finiture dell'icon sono tutta un'altra roba rispetto a queste magari questo qua è usato ha vissuto si è opacizzato tutto quello che vuoi ma io qua è vari i biselli e le transizioni da una superficie all'altra come c'è l'icon qua non le vedo poi 43 mi ha già detto tutto l'icon almeno lo fanno anche da 39 41 32 39 qua 43 padelloso vabbè contento te contenti tutti però sinceramente non c'è non c'è paragone però a me piace design gentiano di quegli anni ricordiamo che l'edox delphin è uscito in inizio 73 e royal oak fine 72 quindi sull'onda di quel design lì ma non un'ommage non ho niente a che vedere ovviamente al giorno d'oggi con quegli orologi fascia di prezzo anche per questo costa 1200 nuovo a me piace tantissimo finiture spazionatore eccezionale qualità edox sottovalutato come tutti gli edox e a me piace tantissimo eccolo qua consigliato per il mio contratto in banca appena preso frank muller master banker tre fusi orari con la stessa corona movimento eta 28 92 modificato con modulo complicazioni eccolo qui c'è una leggenda su questo orologio e su l'orario si regola andando giù con quello sotto andando su quello sopra e un altro scatto quello principale e se no si dà la carica manuale così ma è automatico che dire c'è una leggenda su questo orologio praticamente il socio di frank muller avrebbe ordinato durante la produzione di questi orologi altri modelli comunque durante quegli anni un carico non dieta di movimenti russi non so se vostro con altri da modificare perché gli età non stavano consegnando per diversi motivi e quindi di lì si dice che il nome frank muller sia un po sceso nel mercato roleggeria perché ci sarebbero questi orologi con movimento russo super economico e complica modulo complicazioni venduti a prezzo ovviamente fra da frank muller ma questo piace tantissimo e per festeggiare il contratto in banca è perfetto master banker il profuso orario ricorda un po il breguet marine e questo non è bello però ha il suo perché non mi piace certo eccolo qua troppo classico per me troppo troppo tondo poi neo vintage zodiac seawolf inizia anni 90 tipici stilemi anni 90 anche tutti dello zerif defy e degli altri placcato non piace a me invece piace perché mi ricorda gli anni 90 che sono stati per me il top dell'evoluzione del genere umano eccolo qua diver 200 metri fatto tre visionare tiene il tempo ottiene anche la pressione eccolo qua class regolabile per morire bello 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 movimento eta 28 24 penso si chiami eccolo qua seawolf difficile da trovare non c'è lasciato mio nonno l'unica cosa che ho di lui silver quindi cronograph sui sottomarchio cronograph sui sottomarchio cronograph sui orologio d'oro di 50 60 guarda lì come piccolo dress watch perfetto fatto revisionare lucidare funziona perfettamente il cinturino in coccodrillo verde poi mi ero buttato sui vintage edox per fare un po la collezione preso il delfin anni 60 eccolo qui bello 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 revisionato ton ton è un ton ton eccolo qui ci ho messo questo bracciale rosso in pelle che nella morte è sua poi ultimo preso un altro edox ma c'è il quadrante dipinto diciamo l'avevo preso come pezzi di ricambio perché c'è la corona originale e i lancetti originali per il delfin poi alla fine l'ho fatto revisionare anche questo cambiare il vetro e niente lo sto usando meno male a cosa serve anche questo è ultimi due orologi l'orologio del mio piccolo elric che saluto flick flack e l'orologio della disney questo per insegnargli l'orario ti saluto un grande abbraccio rock e messaggio per il mio amico christian moschini di mandare il suo video al più presto ciao ciao christian moschini manda il video perché sennò qua senza non ci può non possiamo fare siamo tutti in trepida in trepidazione va bene dai non mi ricordo c'è un video lunghissimo con l'esposizione asiolitica non mi ricordo nemmeno però te li ho commentati tutti uno a uno man mano che erano lì no la cosa che mi ha colpito di quella edox delfin che lo ritieni lo reputi migliore dell'icon perché bla 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 proprio non ci secondo me vuoi niente comunque è contento te contenti tutti orologi decenti diciamo sì non ho visto delle fiammate no che mi hanno emozionato un po va bene comunque simpatico passiamo al prossimo video che sono qua è lunga è lunga ragazzi ciao davide sono andrea da padova un tuo figlio ormai da quasi un annetto e finalmente mi sono deciso anch'io di inviarti la mia collezione grande vediamo che qua c'è una lamborghini cioè questa qua è una costruzione una auto costruzione cosa un modellino che ti sei costruito lamborghini mi sembra a me verde così quel verde lì pistacchiello che è un misto tra pistacchio e pisello e poi c'è la scatola degli orologi che mi sembra quella come la mia quelle con i cuscini marroncini morbidi belle larghe ci sono tutti i tipi di orologi e il cuscino che glielo puoi chiudere sotto sto qua perfetto lì è una bella scatola vediamo un po gli orologi che c'hai dai pistacchiello partiamo da questo bello quarzone della della swatch mi piace a me questo qua mi piace l'ho provato dal buon giacomo a me sto swatch qua mi piace cioè non lo compro perché poi lo so che va a finire lì nel cassetto anzi qua c'è questo simpatico lo vedete eccolo qua l'eco drive l'eco drive che mi ha regalato l'amico piero eccolo qua bello come il sole lo vedete it is beautiful like the sun lo devo mettere qua perché se lo tengo nello studio lo tengo nello studio una scatola così aperto non mi si carica non mi si carica perché va a carica solare no quindi ogni tanto comincia andare a scattare di due secondi la lancetta quindi ho capito che lo devo lasciare in un posto luminoso dove ci batte il sole a volte lo legò lo legò sul terrazzo perché a questi punti deve soffrire no tanti discorsi su questi qua sono roggi che vanno indossati lo indossi al polso lo utilizzi in giro sempre tutti i giorni bla 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 come fosse automatico e ti si ricarica se lo lasci fermo un po ti schioppola questo qua poi dopo lo dicevo non lo compro perché poi va a finire come questi qua che li lascio lì da parte non li utilizzo mai quindi che senso ha cioè avrebbe senso ai fini collezionistici allora questo si prendi questo swatch poi ne prendi un altro e poi ti riempi di swatch fai la collezione di swatch particolari scegli uno ma se no così uno uno solo da mettere lì però mi piace mi piace molto la serie what if l'ho visto anche recentemente in un tuo video dall'amico giacomo what if quello che sarebbe potuto essere ma non è stato disegno originale degli anni 80 è stato scelta la linea rotonda e tutta la carriera di swatch è stata sviluppata secondo quel concetto ma chissà cosa sarebbe potuto succedere se chissà altro quarzone un bel inizio anni 2000 all'epoca lorenz comunque era un marchio certo famoso che andava di moda anche ore fa comprare addirittura cronografo penso penso di non aver mai cronografato nulla è stato addirittura senza batteria per 15 anni con la batteria dentro pensavo di averlo buttato ma invece a settembre mi sono reso conto che sostituita la batteria è ripartito al razzo se è stato fortunato che trovato la batteria che ha evitato di essere in fin garda fino in fondo e non ti ha rilasciato l'acido sei stato fortunato perché tenebbene capita una su milione di batterie buone le altre sono tutte batterie cattive batterie cattive bene bene lo uso molto poco meno male altro orologio del 2003 cosa volta un automatico un bel bomber si è regalato dei miei genitori per la laurea anche questo l'uso poco però per la sua forma rettangolare che non mi fa molto impazzire sa perché è brutto però l'orologio si contraddistingue elegante ogni volta che lo metto comunque la sua porca figura la fa immagino è carino automatico data bello si può vedere dal cassetto dei ricordi perché ognuno di noi ha un cassetto da aprire e ci trova dentro sempre delle sorprese ecco qua questo splendido zenith spaceman 2 del 1972 28 1800 frequenze che bello questo un orologio che mia madre regalò a mio padre per il loro fidanzamento che spettacolo è stato in un cassetto penso per quasi 40 anni l'ho ritrovato quest'estate l'ho portato da un amico orologiaio di padova il quale l'ha rimesso letteralmente a nuovo guarda che bel cinturino però c'è molto bello tutto originale va che una meraviglia e soprattutto riscuote molto interesse e beh riscuote interesse perché lo vedi proprio negli anni 70 pieni quando c'era la voglia di esplorare il design soprattutto anche nel senso di spaziale astronavi dischi volanti eccolo qua un classico esempio 40 anni nel cassetto è stato io direi di questo qua di prenderlo e di utilizzarlo e di metterci quello di prima quel boomer mercier rettangolare lo metti in cassetto ce lo fai lo lasci lì 40 anni finché poi qualcuno non lo riscoprirà e allora si accorgerà di quanti quanto belli erano i boomer mercier 40 anni fa per ora però mettilo via tocca carino dai zenith mi piace la sua forma vedo che ultimamente è stata anche ripresa in maniera un po' diversa da qualche concetto di mido ma anche di altri orologi rado forse molto bello rado devi dire mi lo uso anche spesso va bene bravo passando agli orologi di mia moglie a mia moglie piacciono gli orologi comunque importanti di dimensione grossa ecco questo bellissimo Seiko presage cocktail preso per il suo compleanno questo novembre quello che le ha colpito sicuramente è stato il quadrante lo sfondo dell'orologio ha soprattutto sotto i raggi del sole che mette delle luci molto particolari fuochi d'artificio sono veramente belle c'è un fuochi d'artificio ovunque orologio ben fatto con la sua clip clip tarato sul suo polso quindi io non lo posso indossare altro seicone che abbiamo in casa questo bellissimo Seiko prospect spadi the grit blu di quest'estate una versione speciale non so se si riesce a vedere bene il mare ma soprattutto sotto i raggi del sole è talmente trasparente che se guardi bene ci trovi anche le bottiglie di plastica che i maleducati lasciano ogni estate ho 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 che battutono dalle loro barche un orologio solido è un bel diver in estate molto bello è molto bello anche di vero e anche questo mi piace molto mi piace molto adesso brio 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 un altro orologio che in ogni collezione direi non manca è questo bellissimo ori 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 re i2 kamasu maco 3 maco 3 questo del 2000 e sottiguali 23 per il prezzo che ha vetro zaffero ghiera unidirezionale 200 metri di resistenza un orologio che puoi mettere anche quando sei in moto o stai facendo attività un po più sostenute e lui non si ferma mai se non ha problemi e va con un treno veramente bello ci piace venendo a qualcosa di un po più sostanzioso fresco fresco di natale ecco il regalo che mi ha fatto mia moglie e mia figlia tanta roba bellissimo tudor royale calibro t 601 quadrante in finitura sole numeri romani quadrante nero acquistato dall'amico aldo di bari che tanto saluto un cinturino veramente bellissimo cinturino a bracciale integrato con una clip più importante simpatico dai con numeri romani così press watch questo con la camicia con la giacca è veramente veramente importante il quadrante molto bello tudor genera se guardi bene si vedrà anche i quartieri di ginevra quindi guarda meglio di cosa c'è un natale non si può ti ma c'è un simpaticone ed infine regalo che mi sono fatto per la nascita di mia figlia quindi questo soprattutto un orologio che non verrà mai e poi mai avuto questo bellissimo lo jean spirit zulutai 42 millimetri calibro l 844.4 certificato cost quadrante in antracite lancette placate dopo placate oro impermeabile molto bello c'è garba orologio importante che si fa notare verde scelto spero che la mia collezione certo piaciuta sono stato anche nei sette minuti canonici quindi love 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 dai c'è poco da dire tutti i orologi diciamo degni di nota con quello svuocino quadrato all'inizio poi lorenz bellissimo boom e merci rettangolare acciaiuso che per me quello lì da dimenticare poi dopo si è ripreso con lo zenith lo zenith quello degli anni settanta con la cassa particolare a ufo che te volevi dire che ci sono certi rado che hanno quella forma di cassa lì tutt'oggi sì ma anche loro negli anni settanta li facevano già così è capito proprio quelli quali è il vero stile di rado particolare così poi hai chiuso con i orologi di tua moglie poi con il secco con il seccone e gli ultimi due pezzi sono quelli che mi piacciono di più perché il Tudor royal royal e lo Zulu time della Lungine sono due orologi contemporanei moderni che ci garbano tanto ti dirò di più anche anche con i numeri romani lì il royal mi piace dai cioè a un certo punto poi possono anche avere del senso non mi piacciono tanto sugli orologi classicissimi rotondoni quelli grossi però dai si capisce che qua ci stanno sono anche belli compatti dai sei promosso sei stato nei sei minuti ma sei stato anche bene insomma comunque dai prossimo video ciao davide sono andrea da biella e partiamo subito senza perdere tempo andrea da biella con la moto benelli sul sul tavolino biella benelli cilindro biella vabbè un gesidun che non è un quarzon è proprio proprio un quarzin un orologino evitabilissimo diciamo che è l'ultimo orologio portato al polso da mio nonno quindi per me è un ricordo certo quello sì passiamo a quest'altro quarzon 1996 regalo della mia comunione citizen pro master crono orologio al quale io ottengo molto il quale è stato per tantissimi anni il mio everyday watch e direi che dai segni presenti si può ben notare ha vissuto primo meccanico a carica manuale questo anonimo sulla cassa c'è semplicemente scritto antimagnetic apparteneva a mia zia che dopo un po' non lo indossava più praticamente si è stufata di caricarlo ogni volta all'interno c'è un movimento cinese non ben definito insomma niente di speciale mi piaceva molto la forma della cassa e delle ansie ma certo andiamo negli anni 50 astrolux orologio svizzero con movimento a carica manuale 17 rubini tempo da signora con un diametro cassa di 29 millimetri diventa quasi impossibile portarlo al polso diciamo che ogni tanto niente mi diverto a giocarci un po' lo metto sopra il polsino della camicia questo è il mio idro 39 millimetri movimento l888 mio regalo di natale di qualche anni fa diciamo questi numeroni sono un po' particolari però alla fine volevo un diver lo volevo di una casa blasonata ad un prezzo comunque abbastanza modico e secondo me Longin è il connubio perfetto di tutte queste cose certo vostro comandischi orologio che utilizzo al mare o in montagna bellino diciamo che per me è un po' un toy watch ma un toy watch nel senso che è un po' come una Barbie gli cambio praticamente il cinturino un po' come si cambiava il vestito alla Barbie un giorno sì e un giorno no bravo senza carri armati jet o bombe atomiche sul quadrante diciamo che la corona è abbastanza sporgente ed è un pochettino scomodo però vabbè è simpatico faremo una ragione va bene alto orologio appartenuto a mio nonno questo yema da taschino bello perché è abbastanza piccolino funzionante pensate risale agli anni 60 insomma come si dice nella community simpatico e anche anti choc anti choc primi del novecento dubois penso che si pronunci così anche questo un orologio svizzero carica manuale volevo farti vedere il movimento ma nulla il fondello questa sera non ha nessuna intenzione di aprirsi e quindi pazienza e vabbè gli ultimi quattro orologi che ti mostro Davide purtroppo non funzionano più mi sono informato da diversi orologiai per farli sistemare ma o non si trovano i componenti oppure veramente il costo di riparazione è quasi folle e quindi non merita questo era un orologio appartenuto al mio bisnonno è un angel sempre del caso svizzera scomparse carica manuale 15 rubini anni 40 mi spiace perché comunque era un orologino di forma sarebbe ancora stato indossabile e lo avrei fatto molto molto volentieri ancora un cipollotto orologio americano ho fatto qualche ricerca tramite un sito apposito e anche grazie a tutte le informazioni riportate sul calibro sono riuscito a scoprire che questo orologio è del 1902 mamma mia simpatica anche le lavorazioni interne al calibro stesso eridano sinceramente non ne so molto ho fatto qualche ricerca ma senza che era successo a me sembra molto lo stile orologio delle ferrovie tra l'altro come puoi vedere secondo me ha avuto qualche grave incidente di percorso questo orologio sia sia la secondina e questo art attack del numero 8 che non si sa bene mamma mia che schifo cosa gli sia accaduto ma vabbè anche qua avrei voluto farti vedere il meccanismo Davide ma questa sera a quanto pare non è serata e non si vogliono aprire va bene terminiamo con questo sempre da taschino carica manuale non penso ci sia niente però di interessante al suo interno sono carine le lavorazioni va bene mi fido con questo Davide ti saluto un caro abbraccio a te e a tutti gli iscritti al canale e come sempre love si ma se posso permettermi io con un unico termine definire tutto questo insieme di orologi da tasca e orologi cianfrusaglie ora mi viene da dire così cianfrusaglie scusami ma al di là di tutto va bene c'è il romanticismo di avere l'orologio vintage dell'orologeria vintage degli orologi da tasca ma qua io ho visto un insieme di cose che quando vai a quei banchetti su al mercatino che sono tutti messi a mucchio lì e te con un bastoncino fai così per guardare se c'è qualcosa di interessante non me ne volere però io faticherei ad avere tutti questi orologi non funzionanti accrocchiati che non funzionano che se che non si aprono no 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 non fa per me questo questo tipo di collezionismo se se fa per te però uno dice fa per me però prendiamo anche il meno meno conosciuto di questi no riportarlo alla vita cioè riuscire a farlo funzionare a dargli un perché e invece ti sei scontrato contro un muro di no non si può costa troppo e quindi ce li hai lì che non fermi che non funzionano e quindi dico ma allora quando ci sono certi che si lamentano dell'orologeria moderna che un giorno non si troveranno i pezzi di ricambio chi te lo riparerà quello con la spirale libera o bla 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 e poi si vede che tutto il mondo del paese cioè la storia si ripete è sempre stata una difficoltà e sempre sarà trovare i pezzi di ricambio per gli orologi di un certo tipo no quindi se ti sei bloccato lì e c'è questi orologi non funzionanti tutti insieme piccolini no vabbè dai non è non è per me non fa per me sono contento che ti diverti in questo modo probabilmente anche con poco vabbè gli orologi moderni ce li hai cioè l'Hidro Conquest che tanta roba e quel bellissimo Comandischi che mi piace proprio proprio ho fatto bene mi piace quel quadrante pulito senza bombe atomiche come dici te bravo dai ti promuovo per quei due orologi lì poi per il resto non se ne salvano non mi garbino dai prossimo video eccoci qua Davide sono nuovamente Ivan da Savona una volta ci eravamo lasciati con la mia collezione in questo stato eh tre secondi e niente ti ringrazio per la tua risposta e per i tuoi commenti e ti mostro l'avanzamento della collezione che è raddoppiata quindi ti mostro altri tre pezzi per prima cosa volevo prendere dei diver per con la fortuna di vivere a 5 minuti dal mare e quindi mi sono fiondato per prima cosa su questo bello questo mi piace tanto questo è un orologio che ci tenevo troppo ad avere in collezione per la sua storia e per tutto quello che rappresenta e volevo esattamente questo modello ho avuto la fortuna di trovarlo in vendita a secondo polso a un buon prezzo in direi buone condizioni mi ci sono fiondato e questo che dire secondo me Zodiac è un po' sottovalutata perché ha una storia incredibile non è vero Zodiac non è sottovalutata ora l'ho fatta anche io delle recensioni degli orologi sono tutti fatti bene tutti fatti bene hanno una loro personalità guarda questo qua com'è bello con senza datario così perfettamente simmetrico leggibile tutto in acciaio no senza avere la ghiera pigmentata mi piace così è un bello orologio sottovalutato invece sono tanti gli appassionati è di nicchia certo non è che il grande pubblico lo vedi in discoteca con un Zodiac con uno Zodiac per appassionati incredibile e fa orologi molto buoni certo cosa dire questo secondo me con i suoi 39 mm di diametro è molto utilizzabile in realtà penso che lo utilizzerò anche a lavoro senza problemi durante l'estate certo questa è un'edizione limitata 500 pezzi che appunto cerca di replicare non è un'edizione limitata l'ho già spiegato anche io nelle mie video recensioni 397 su 500 non indica l'edizione limitata loro quando fanno un'edizione limitata me l'hanno specificato proprio il loro numero di edizione limitata è non mi ricordo qual è è un numero ben preciso che rappresenta l'anno di nascita della casa 1800 qualcosa questi qua sono i batch sono i 500 rappresenta il numero di pezzi per batch come si può dire batch per mandata non sono le azioni limitate le numerano così abbastanza fedelmente il modello originale del super sea wolf a me piace veramente tantissimo questo orologio lo volevo un bel diver con la coronavite per non avere nessun problema durante l'estate e niente ho scelto lui fatto bene poi ho scelto inoltre il secondo orologio volevo anche un bel diver diciamo più sportivo e mi sono fiondato su questo oris acquist date secondo me oris è un marchio abbastanza sottovalutato anche questo ma per te sono tutti sottovalutati se non c'è scritto rolex sopra sono tutti sottovalutati non è sottovalutato tra gli appassionati lo vedi anche nei video sono una marea di persone che hanno gli oris tra il big crown il diver 65 l'acquis ce ne erano tanti non è sottovalutato anzi e perché produce effettivamente dei gran belli orologi questo orologio qua al prezzo a cui viene proposto secondo me dà una sensazione al polso di una cosa di una fascia superiore ma lo è questo bracciale qua integrato è veramente veramente ben fatto mi piace tra l'altro questo particolare che se si nota le maglie sono spigolose non sono lisce certo ho fatto anche io la recessione è un particolare abbastanza interessante yes che dire volevo un orologio un po' sportivo un po' grosso visto che li ho tutti piccolini questo qua infatti è un 43 e mezzo di diametro ci sta secondo me sul mio polso facci vedere faccio vedere accettabile ma si anzi ci sta molto bene si vede niente si vede solo orologio che dire questo orologio qua appunto ripeto secondo me offre una qualità molto alta questo quadrante è veramente molto molto gradevole perché c'è questo verde che si vede in base all'illuminazione ma altrimenti sembra quasi nero se non è illuminato guarda che effetto che fa e poi prende la luce benissimo ho scelto di prendere questa versione qua che è quella con il sellita perché gli oris praticamente tutti ora si riescono a trovare o col movimento in auso con il sellita ho scelto il sellita proprio perché io voglio potermelo portare al mare senza avere nessuna remora senza avere nessun farmi nessun problema e niente col sellita penso che sia molto più facile in caso si rovini aggiustarlo quindi ho scelto quello ho scelto il sellita principalmente per questo si va bene il sellita perché per una questione psicologica più che altro perché tutti gli orologi oris con il calibro 400 in auso o derivati 10 anni di garanzia e 10 anni di tempo alla prima revisione meno pensieri di così che dire molto particolare anche proteggi corona tipico di oris che è avvitato con le viti in vista questo secondo me è una gran bella scelta per chi vuole un diver ben fatto e ha un prezzo in realtà molto concorrenziale e so lo consiglio molto a me piace tanto tanto questo orologio qua gli orologi costano costano tutti ormai infine niente il mio sogno bagnato mi sono tolto lo schizio ti avevo chiesto riguardo a un dato brand e alla fine mi sono deciso e quindi ti mostro il mio orologio migliore del momento ossia questo simpatico gran seico sbgr325 toccolo alla fine ti avevo chiesto su gran seico di secondo polso quarti eccetera alla fine niente ho preferito bello far le cose per bene quindi l'ho preso automatico dal concessionario nuovo che dire questo orologio qua io lo trovo uno spettacolo non serve semplice star qui a parlare delle finiture di gran seico è veramente una cosa che va vista di persona diciamo per capire effettivamente il livello di qualità di questi orologi cosa dire ho scelto questo qua movimento automatico questo è è un'edizione limitata a 1200 pezzi celebrativa del movimento 9S infatti ovviamente al movimento 9S automatico si può vedere questa molto particolare massa oscillante in titanio mamma mia che bello che tra l'altro è incredibilmente responsiva appena si muove l'orologio lei si muove è molto particolare da vedere qua appunto è indicato che è un'edizione limitata ho trovato il pezzo 896 molto interessante niente cosa dire ho scelto questo orologio anche perché mi piace il fatto che sia un gran seico ma comunque 37 mm di diametro che secondo me lo rende estremamente portato allontanati se no non si vede non si figura mai non ho molto da dire diciamo che ho soddisfatto il mio piccolo sogno per adesso perché la scimmia non muore mai e niente ti ringrazio nuovamente dello spazio che mi hai offerto e alla prossima alla prossima grazie ciao 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 bravo complimenti prima nel video del precedente mi avevi mandato quei tre seco che sono tanta roba tanta roba beh i tre seco una bella collezione di seco così che noti si poteva dire niente ora ancora di più hai migliorato cioè il bello è che non vai nemmeno a cadere uno inciampa si prende un qualcosa di no ti sei preso lo zodiac perfetto bellissimo orologio loris aquis cosa vogliamo dirgli a loris aquis niente un cararmatone e poi è andato invece sul gentile sull'aspetto gentile con quei gran secoli che mi piace tanto mi piace proprio oddio ora ragioniamoci un attimo non ha niente di particolare perché è veramente il classico orologio di come se lo immagina anche un bambino semplice così bello con le lancette d'offen semplice però è proprio bello le finiture di gran seco sono di primo ordine questo è poco ma sicuro così come i calibri ora ti hai scelto questo qua automatico dovrebbe essere quello a 28.800 alternanze e non quello a 36.000 che sarebbe il mio il mio ideale no se io dovessi prendere un gran seco potendo permettermelo perché questo qua costa sicuramente un po' meno di quello da 36.000 sarebbe quello a alta frequenza che perlomeno ha un valore aggiunto ai miei occhi sono preso un gran seco a 36.000 alternanze sarebbe il top invece come sapete non riesco a digerire gli spring drive che insomma c'è un quarzo dentro quindi anche se c'è tante ruote che girano tanti ingranaggini poi alla fine il cuore è un quarzo quindi comanda lui è lui che decide il tempo allora sono buon anch'io complimenti complimenti per la collezione pre e post si è promosso si è promosso ciao Davide sono Andrea da Brescia Andrea io faccio un'università quindi non posso permettermi chissà che cosa però con i miei risparmi sono riuscito a prendere questi orologi vediamo partiamo allora questo qui è il primo un Tissot PRX con movimento powermatic 80 bravo conosciuto ormai da tutti super preciso certo ce l'ho sia con il cinturino in pelle che con il bracciale e il cinturino in gomma secondo me è stupendo bello bell'assaio un classico ormai bei guantini poi questo qui è un Seiko un Seiko Tartole tanta roba dipendo anche lui secondo me finora belli orologi non ha il bracciale non ha il cinturino originale perché il suo originale non mi è mai piaciuto quindi l'ho cambiato praticamente subito con questo qua che è dell'amorellato ci sta morbido mi trovo benissimo ci stava anche questo qua proprio perché è un orologio di terra no e quindi un cinturino in pelle ci può così marrone ci può anche stare dai questo qui è un altro Tissot bravo un Sideral in questo caso quello blu blu ora è diciamo in conformazione invernale perché non è col suo cinturino originale ma anche ho preso questo qui anche questo qua che è dall'amorellato per l'inverno che è un colore un pochettino più spento però un po' più mettibile rispetto al suo vero diciamo originale sì l'ho recensito anch'io questo tanta roba bello mi piace questo è l'ultimo arrivato in collezione il Tissot Heritage 1938 quello certificato COSC bello l'ho recensito è stupenda allora ho forse 4 i 3 Tissot che sono passati li ho tutti recensiti anche io quindi li conosco a mena dito forse anche quello là se non mi sbaglio anche il secco ho recensito se non vorrei confondermi perché però anche questo non è ora con il cinturino originale ma è un cinturino dell'Irish morbidissimo irish costano costano gli irish anche qua davanti il salmone secondo me è spettacolare gli indici applicati yes molto bello questo orologio COSC secondo me in collezione non potrebbe mancare un eccolo qua l'anfibia però in questo caso è quello con il timone con l'ancora sono abbastanza pittoreschi questi amici russi quando si mettono lì a fare gli orologi per il pubblico occidentale noi gli disegniamo sopra un timone un'ancora una polena una sirena questa roba qua così lui eh Vostok in questo caso il Vostok anfibia utilizzato in un film se non mi sbaglio dovrebbe essere Le avventure acquatiche una cosa del genere dovrebbe essere nel 2004 il film vabbè solo dici te il cinturino originale anche questo non ce l'ho no l'ho comprato usato e aveva già questo qui ah e vabbè secondo me ci sta bene sei triste poi con la mia collezione ho contagiato anche il mio papà bravo questo qua è il suo un berio splaccato oro le sfere in questo caso le abbiamo dovute sostituire perché quelle originali erano dello stesso colore di quella dei secondi cronometrici e quindi non si vedeva assolutamente senza gente ecco cioè a volte le case i designer fanno di quelle cose che boh tutto tutto così champagne champagne no non si non si sarebbe non si vedeva niente ecco ti hai messo due ora concettualmente è anche un po' no sarebbe da deprecare no deprechiamo la sostituzione delle sfere originali perché hai modificato l'orologio ok fatto questo simpatico questa simpatica accusa poi un berio se ci hai messo queste due sfere qua guarda come cambia la leggibilità come si legge bene l'orario in questo caso qua poi va bene uno vuole cronometrare un tempo track cronometra stoppa e ha più tempo poi per vedere a quanto si è fermato la sfera cronografica quindi anche se con jambagne non ce ne frega niente però almeno l'orario si vede è fatto bene secondo me avrebbero cioè non avrebbero potuto arrivarci già da loro da soli loro fare un orologio un po' leggibile perché in fin dei conti il primo il primo compito di un orologio è restituirci l'orario cioè non è che devi stare a farvelo bellissimo piedi pin tutto in tono su tono poi dopo non si legge e lo abbiamo deciso di sostituire con queste sfere che dovrebbero essere della Longines addirittura in questo caso si legge certo tutto meglio bravo sono d'accordo con te te lo appoggio anche nella sua collezione è presente un Vostok guarda cadute quello Comandinsky quello Comandinsky è certo bello dai niente di particolare no quella stella rossa lì poi come ultimo pezzo bonus questo qui è uno zeni di mio nonno tanta roba completamente in oro mamma mia non so assolutamente nulla ma non devi sapere niente per che tu magari lo possa conoscere o gli amici del canale io non so assolutamente niente ma lo mandi lo vivo io dovrebbe essere degli anni 70 anche prima forse un vetro bombato penso in plexiglass niente grazie mille grazie a te ciao 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 dai belli orologi una bella collezione sei orologi di quelli del babbo sullo zenith lì non ti so dire niente guarda uno dovrebbe prepararsi un attimo nel senso io dovrei prepararmi un attimo prima di dirti delle cose su quell'orologio lì da qua non so niente perché non so nemmeno che calibro possa incassare cioè il datario lì a ore 4 e mezza ce li avevano tutti in quel periodo lì potrebbe essere il calibro quello 2572 potrebbe essere qualsiasi cosa no mi dispiace è inutile che mi arrampico sugli specchi beh gli orologi 3T su a questo punto possiamo dire che è veramente il marchio swiss made mainstream che fa gli orologi meno costosi c'è rimasto 3 su altri Hamilton si è già un pochino più alzato bravo dai belli orologi prossimo video ciao Davide sono ancora Stefano Stefano da Loano Liguria Liguria grazie per aver pubblicato il mio primo video e ora ti do un aggiornamento della mia collezione vai allora cominciamo con questo cronografo che ho comprato dai primi russi che venivano in Italia coi Pullman tutt'altro che ricchi naturalmente e facevano i mercatini nelle piazzone degli autogrill eh certo comunque abbastanza carino si poi seconda ma seconda ora poi ho preso questo Perseo Perseo mi sembra un 36 mm con il logo FS però non ha segnato eh sì potrebbe essere anche un acrochione non lo so io ma il dattario sicuramente non ci può essere ho preso questo Seagal di cui ho letto anche la tua recensione letta e ti dico per ora funziona bene meno male speriamo che continui così ma sì sì poi funzionava anche il mio alla fine dopodiché sempre per una tua recensione ho preso questo Bulova Hac simpatico che mi piace parecchio stile militare 38 mm e funziona piuttosto bene certo Bulova non è che non funziona male bravo dopodiché ho salito un po' di livello e ho preso questo Seiko Presage come si dice cocktail Negroni ha un quadrante veramente strepitoso 38 mm anche lui funzionamento perfetto leggibilità molto bene ottima perfetto poi continuando a copiarti ho preso questo Orient bambino 38 mm 38 mi piace molto anche se molto semplice e tranquillo veramente un orologio carino un dressino un dress watch così da poco poi seguendo il consiglio che mi hai dato io nell'altro video ho preso il Tissot PRX è bravo 40 mm automatico molto bello di cui sono molto contento penso proprio dove hai fatto bene a seguire il tuo consiglio devi sempre seguire i miei consigli poi mi son tolto uno sfizio perché è un orologio che desideravo veramente da tanto tempo è questo Omega Seamaster acqua terra quadrante bianco con le lancette azzurrate non so se si vede ma comunque ti assicuro che sono azzurrato si 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 ho capito l'ho comprato su crono 24 è un orologio del 2006 credo che sia stato lucidato perché veramente non ha un graffio e quello non si può dire sono molto contento è coronamento di un sogno è un gran bello orologio questo qua poi ce l'ho anch'io l'ultimo orologio a cui tengo parecchio è un Omega da tasca pensate eccolo qua con un medaglietta d'oro poi capirai perché è un Omega che è appartenuto alla mia zia suora che è mancata da poco tempo ha 102 anni mamma mia pensa che questo orologio gliel'aveva regalato sua sorella quando è entrata in convento da ragazza e funziona ancora molto bene adesso a vederlo così mi pare che le lancete siano in oro però è tutto una non ne sono sicuro via mi sembra ma non lo so è praticamente come nuovo anche se ha un sacco di anni ok questo è tutto Davide grazie di tutto grazie a te sei il nostro faro che ci illumina nell'oscurità ma smettila il faro che ci illumini è preso dalla zia suora te no vedi c'è le visioni no a proposito della zia suora è interessante cioè è bello a prendere cioè quello orologio a tasca lì gli è stato regalato dalla sorella quando è entrata in convento no o quando ha preso i voti non ho capito non ricordo quindi cosa vuoi che mai ci abbia fatto una suora con un orologio a tasca che l'ha pastrocchiato gli ha fatto i mastruzzi che l'ha usato in battaglia e no è stato veramente nella bambagia per tutti questi anni quindi veramente un esempio di un oggetto trasportato nel tempo quasi intatto poi ti dici le lancette d'oro non lo so ma a questo punto non ci interessa nemmeno è proprio il valore storico dell'orologio che ci interessa non il valore meramente economico poi per il resto tutti i orologi simpatici quel per seo mi ha lasciato cioè non è che mi ha lasciato dei dubbi giustamente visto che dietro c'è il logo ma non è assegnato quindi il logo cos'è o commemorativo altrimenti qualcuno che ce l'ha disegnato in un secondo momento per farlo sembrare figo perché quelli per i ferrovieri non avevano l'adattario ad esempio poi anche quella che se condina lì con quei numerini strani mi sembravano un po' strani comunque c'è un motivo per tutto non è che se io dico così è per forza che siano dei accrochiù non è per forza dai passiamo al prossimo video che ti sei stato promosso grazie per avermi dato il video ciao Davide ciao ci eravamo già sentiti qualche mese fa forse prima delle ferie non mi ricordo adesso appena vedi l'orologio magari ti ricordi ti ricordi questo? no parlavamo del discorso landeron michael landeron che ha tutto accrocchiato perché l'ho assemblato io mi stava sulle palle e sto fatto cosa ho fatto? ho cancellato la scritta sul quadrante landeron via ah ok adesso è un bellissimo anonimo anonimo bravo quadrante di carbonio ho capito e lo ricordo movimento vai giù svizzero 7750 ho fatto bene nessuno ti può dire niente non c'è nulla da dire no spero con questo modello è via questo qua poi sai che sono quello che ci mette in mani agli orologi ti faccio vedere anche questo che utilizzo ogni giorno quotidianamente in officina senza pensieri è un quarzone ma un quarzone io direi di qualità sì rispetto ad altri orologi che si possono vedere perché monta comunque un ETA passo passo però non nasce così questo orologio nasce con la la cassa in alluminio degli Irony io cosa ho fatto perché nessuno forse lo sa o pochi lo sanno è un monoblocco ma si possono smontare devi la ghiera ancora una strappo ti do levi il quadrante con tutto il meccanismo a sé e tu lo trappianti dove ti pare io ho trovato questa cassa d'acciaio ma io non sono trappiantato così bravo ed ha uno stile diciamo tipo uno speedmaster vorendo vedere ed è lo stesso anche meccanismo degli ultimi Moonswatch tanto piacchierati però la qualità è ottima è dieci anni che non mi abbandona è un oroso da battaglia va bene dai via fuori della pancia questo ma che colpo altro oroso che avevi già visto è questo mio col logo crono sempre 7750 che però ho cambiato prima era bianco adesso ho voluto rifarlo in tonalità nera col nuovo loghettino vediamo se lo faccio vedere bene col teschietto e le chiavi che magari apprezzerai e le due chiavi inglesi a croce è molto carino secondo me si rifà sempre ai big block vabbè però è un genere che a me piace quindi la cassa non c'entra un cazzo con i big block perché ed è totalmente diversa parlavamo anche del discorso che tiene non tiene la pressione di 200 bar non è che l'ho testato però la cassa è stata comprata talmente di qualità io ho usato al mare piscina non c'è nessun problema ma è chiaro che non vado a 200 metri però è una cassa di qualità certo anche questo non è un accrocchio come stavi dicendo tu l'altra volta un accrocchio ho fatto anche il logo incidere il logo scusa scusa claspo grande questa cosa sei simpatico da un'azienda del settore ecco è un altro oggettino che sono fiero di aver fatto chiaro farlo in serie non potrò lo stesso perché ha costi molto alti però molto carino molto carino ultimo arrivo invece forse apprezzerai di più di tutti questi che hai visto fino adesso è questo Seiko oh i Prospex il 62 massimo mi piace quadrante bronzato marroncino cioccolato ma è bracciale giubilì? ha il suo bracciale è tutto full set ovviamente ha il suo bracciale di rubber di gomma però ho preferito mettergli questo giubilè della Miltat che è molto massiccio è fatto benissimo la chiusura è spettacolare proprio non è un lamierino spostante di sicurezza certo sono fatti bella bella fatta proprio come si deve forse più pesante è la claspia di tutta la cassa dell'orologio però è bello bello questo orologio bello bello si rifà al modello ovviamente vintage mi piace questo qua però alla fine sono questi gli oggetti che piacciono ai collezionisti cioè ok che si rifà un modello che già esisteva eh sì ma va bene la stagione secondo me ha mille modelli a catalogo che potrebbero levarne un 50% buone che alla fine sono d'accordo con te su questo quelli che piacciono ai collezionisti e gli appassionati sono sempre sono sempre quelli sono d'accordo su questo lasciano il tempo che trovano come altre case che fanno mille modelli sì sì è vero non c'è ne uno che ti fa dire anche Hamilton per dire fa mille modelli cioè mille crono mille tipologie di crono ma fa ne due o tre che tanto alla fine ci sta come ragione sei riconoscibile per il tuo design e basta secondo me poi sono parelli personali vabbè vi ricordo i miei disegni ma tanto non voglio insistere che poi magari ti incazzi ma che mi cazzo e frego ti mando un saluto ciao saluto e buone feste ciao 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 buone feste buone feste ciao bello ciao bello sarai te capito buone feste come dicevo prima sono fatti prima di Natale sti video siamo già a febbraio il tuo ragionamento non è mica sbagliato ora a parte tutti quegli orologi che ti sei autocostruito auto assemblato per divertirti per fare per brigare poi sei arrivato con quei secoli che quelli è uno di quei secoli che a me mi garba tanto mi garba tanto e lo vorrei proprio prima o poi lo prenderò un secolo uno di quelli lì che ho recensito e non è mica sbagliato come ragionamento il fatto che seco ha tanti modelli infatti prima mi sono anche confuso non mi ricordavo se quello dell'amico l'aveva registrato o meno l'avevo recensito o meno è tutto lì il problema ricordarsi anche tutti i modelli che ha sei con una marea poi dopo la fine sono sempre i soliti che ci piacciono che non ci piacciono comunque ripeto quello lì è un orologio che prima o poi farò mio in quella versione lì o in un'altra prossimo video ciao Davide mi chiamo Lucio vivo in Germania mi presento i miei orologi ah certo orient bambino da 40 mm bellissimo mi piace sta benissimo sul mio polso da 19 e mezzo si orient kamasu verde petrolio bracciale strap code particolare è l'orologio che indosso di più e si vede l'ho portato sempre ha nuotato con me con le mante guardate particolare quel bracciale lì dell'orient kamasu della strap code non se ne vede tanti io l'avevo già notato l'ho anche consigliato a chi vuole fare qualcosa di particolarmente differente guardate che design che ha con il bracciale lì il bracciale per il kamasu con questo design poco visto è il primo che vedo che l'ha utilizzato che l'ha comprato bravo e lo alterno ogni tanto sempre miltat con questo tropic verde bravo 6x5 6x5 orient bello semplice economico certo poi questo ultimo acquisto mido multifort mi piace ha un po' il cinturino corto ho visto che su altre casse sempre multifort mido su altri orologi sempre con la stessa cassa multifort mido propone il bracciale mi piacerebbe riuscire a trovarlo ma non è venduto come parte di ricambio da parte di mido non lo so magari i concessionari lo vendono qui c'è una mosca prova a sentire Pasquale Domenici Laco cazzo bello questo vivo Heidelberg siamo molto vicini a Forzaim a Forzaim c'è la sede ovviamente di Laco casa storica che produce Flieger questo è un Laco pro siamo andati insieme con mia moglie a sceglierlo è stato un suo regalo a me anche se poi la scelta è stata condivisa mi piaceva Laco mi piaceva molto il modello Heidelberg vivendo Heidelberg mi piaceva ancora di più la mia idea era abbastanza semplice e prendere appunto l'Heidelberg poi sono andato in negozio ho visto l'Heidelberg dal vivo non mi ha convinto troppo è un modello un po' diverso da questo ovviamente la cassa è sabbiata le anse sono dritte quasi a emulare le anse saldate il passo cinturino è da 18 il che rende il cinturino molto fino e non adatto secondo me almeno alle proporzioni dell'orologio questo è un modello appunto Laco pro Laco pro è una serie di Laco che consente di scegliere molte cose sul orologio tanto da arrivare quasi a personalizzarselo al 100% le combinazioni possibili sono circa 14.000 da quanto dichiarato da loro e questo è possibile perché si parte dalla scelta della dimensione della cassa quindi 37 40 o 43 poi quadrante A o quadrante B e queste sono le macro differenze data no data scritte o non scritte quindi Laco e Made in Germany si possono eventualmente non avere movimento automatico o movimento manuale entrambi sellita fondello aperto o fondello chiuso finitura della cassa o satinate o sabbiate ho scelto il satinato perché era l'unico abbinabile al bracciale anche se comunque possiedo il suo cinturino originale poi ho scelto il quadrante B perché nel modello da 37 non mi piaceva il quadrante B e sarei andato per il quadrante A per una questione della dimensione della sfera ore perché essendo più piccolo il sottoquadrante delle ore era molto più compatta la lancetta delle ore e diventava sostanzialmente un quadrato e non romboidale come questa sul quadrante da 40 il quadrante A non mi è piaciuto troppo perché lo trovavo spoglio e soprattutto trovo più sì ma quante menate voglio dire a questo punto non sono più d'accordo sul fatto di dare 14.000 che poi facendo le moltiplicazioni non riesco a capire dove si arriva a 14.000 possibilità di personalizzazione cioè è anche no mi sembra quasi di ordinare da Aliexpress un orologio e farmelo fare così 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 e così troppo secondo me una casa dovrebbe fare l'orologio è questo ok l'orologio è questo magari puoi scegliere vetro zaffero vetro plexi oppure un modello con fondello chiuso ma non che mi fai scegliere la satinatura della cassa il tipo di quadranti le scritte sì le scritte no il calibro come lo vuoi manuale automatico mi sembra un po' troppo preta por te un po' troppo customizzare a seconda del cliente perché non sei abbastanza consapevole della tua forza cioè le case quelle serie non vuol dire che l'acqua non è serie ma come si deve l'orologio è questo non ci sono altre versioni lo vuoi tiri fuori i soldi lo copri non lo vuoi vai scegli comprati qualcos'altro non è che per farti piacere te a cliente singolo no te lo faccio così no come lo ah no qua ah no te lo faccio così ecco tieni ora dammi i soldini per favore no non sono d'accordo incisivo personale questo quadrante B ho scelto di non avere la data per una questione di bellezza avrebbe tolto il numero 15 niente ho pensato che potesse essere l'orologio che avrei portato per sempre e soprattutto in maniera costante invece portandolo praticamente in ogni occasione e senza tanta paura di rovinarlo perché questo è anche un 200 metri di permeabilità avendo la corona a vite mi piace molto mi piace molto questa possibilità che dà l'aco di costruirsi un orologio a partire ovviamente dalla loro storia cioè gli orologi Flieger niente questo è tutto ti saluto grazie un parto è stato un parto ordinare quell'orologio lì è stato un parto gemellare 200 metri però è notevole come perché c'è la corona a vite i Flieger non ce l'hanno la corona a vite quelli di serie standard anche quelli che montano il miota i laco che montano il miota non ce l'hanno questo qua ce l'ha 200 metri quindi mi viene il dubbio ti fanno fare anche il calibro manuale con la corona a vite così ogni volta stai a svitarla e a caricare si rovina tutto il filetto domanda domanda vedrai che tra le 14.000 possibilità c'è anche quella del calibro manuale e corona a vite tanto fanno quello no non sono d'accordo ho già spiegato prima non mi piace questa cosa qua di personalizzare ci sono case che neppure se un concessionario gli chiede un'edizione limitata di tot pezzi con un quadrante differente te lo fanno no non facciamo queste cose e lì da lì si vede la serietà perché se no se tutti facessero seguissero le richieste o dei concessionari dei venditori o del paese qua addirittura siamo alle richieste del singolo del singolo che gli dice lo voglio così e te lo fanno non mi piace è un po' da zerbino prossimo video ciao Davide Citizen Pro Master che ha quasi 40 anni ha sempre fatto il suo dovere diametro 39 mm come vedi ha tre piccoli quadranti è ora sei nove e dodici quello di mezzo ti indica a che punto del giorno sei cioè se sei a mezzanotte o a mezzogiorno va bene bellino a seguire doppia I cioè infingardi e imbroglioni ma permettimi una difesa d'ufficio sono due Citizen in titanio radiocontrollati la mia difesa d'ufficio si basa su questo e cioè i quarti i quartoni hanno un gravissimo difetto ti lasciano a piedi prima o poi questi no a meno che tu non li dimentichi chiusi in un cassetto per due mesi non ci sono pile da sostituire sembrano allora ma te l'ho detto prima ma ora voi li ha fatti apposta questo qua se io lo lascio così nello studio così e dopo mi si scarica mi si scarica bisogna fargliela vedere la luce proprio fargliela vedere io ogni tanto è come il Tamagotchi cioè questo qua come il Tamagotchi me lo ritrovo per casa a volte qua a volte qua a volte lo leggo al terrazzo a volte gli faccio prendere la luce alla finestra perché se ne mi muore cioè è come il Tamagotchi che devi andare da mangiare a fare tutte le cosine per farlo sopravvivere eccolo qua quindi dire che non è in fingardo anche lui ti abbandona quando ora se uno di quei giorni lì in cui ce l'avevo lì da parte non dici oggi mi metto questo vado fermo e si è proprio fermato che poi dicono anche di non farli fermare il mio si era proprio fermato indistruttibili al polso è come non sentirli capisco che possono avere il fascino di un elettrodomestico ma come segnatempo hanno molti perché in più mi piacciono e quindi pace è pace bene ora ti mostro due glissin il primo è un incursore a carica manuale il secondo si chiama strato forte anche questo è un automatico mai visto alla vestibilità però di una lavastoviglie anche perché il diametro è 45 mm però mi cacque molto militari adesso uno scherzo un racchetta acquistato a Mosca mezzo secolo fa lo comprai per una manciata di rubli non ci sono piatte rosse o cremlini di mezzo e questo è un pregio l'unico difetto è che non può essere indossato se si va a predappio durante cerimonie commemorative ma è un rischio che non corro permettimi un sorriso con la sua carichina manuale sbaglia di pochi secondi al giorno bravo a seguire non uno non due ma tre vixa non si sa bene se tedeschi o francesi il primo è un neptuno professional c'è anche una piccola scritta in rosso dove si legge legion estrangère chi lo sa forse era al polso di legionari ma ne ho dupito moltissimo roba da battaglia poi c'è questo type 3 o type dry mi piacque anch'esso molto esteticamente credo monti un eta 28-24 e per finire questo highlands sempre della VIX sul quadrante si legge calibro 1423 a caso ma sembrerebbe intuirsi che si tratta di un calibro di manifattura ma io ne dubito moltissimo prima domanda perché appena digiti in rete queste quattro lettere cioè VIX ti trattano più o meno come un cane in chiesa se sono ciofeche conclamate ti prego di non risparmiare di non indorare la pila non lo so facciamo anche presto cioè andiamo a vedere allora niente praticamente sì mezza ciofeche lo sono però dicono che sono i calibri che incassano vanno dai miota agli eta e addirittura il calibro quello lì probabilmente quello che ti dici con i numerini loro lo fanno passare per manifattura ma si tratta di un vecchio calibro foster tedesco degli anni 40 rispolverato e messo dentro gli orologi quindi un'operazione un pochino truffaldina un pochino quindi noi gli diamo uno due e tre ciofeche per tutti e tre gli orologi che c'erano lì perché a me mi sembravano dei giocatori con dei nomi altisonanti però non conoscendoli volevo un attimino stare sulle mie poi ti mi hai detto quella cosa lì e io mi inviti a nozze mi inviti a nozze amico mio e io ti do tre ciofeche per tre orologi veniamo ai giorni nostri questo per seo che monta un'eta 34 a me è piaciuto molto e devo dire che è anche molto affidabile il problema è che qua sembra che sembra che le finestre giorno e data gliel'hanno fatte dopo su un quadrante messo a qualsiasi oh ci siamo dimenticati di fare le finestre oh fai uno scasso qua e fai uno scasso qua perché non sembra che sia un quadrante progettato per andare a ragionare sulle finestre capito soprattutto quella della scritta sopra sabato lassù potevano fare un po' meglio e poi ti ho conosciuto e quindi cominciano i guai primo acchiappo questo bello presage presage che voglio dire esteticamente ha molti pregi è fatto veramente bene come orologio la texture del quadrante richiama un antico motivo giapponese cioè a foglie di canapa è veramente un orologio particolare simpatico chiudo con l'unico pezzo di preso arrivato in casa mia circa un mese fa parlo di questo Longin Spirit che secondo me è orologio perfetto ma proprio mi soddisfa pienamente da indossare da guardare non gli trovo difetti è assolutamente impeccabile non solo perché è certificato COSC ti lascio con una domanda sono un motociclista credo come te e ho una grossa enduro stradale vibrazioni e contraccolpi fanno parte del gioco ma tu indosseresti un automatico di pregio nel mio caso si tratta solo di questo Spirit se affronti un viaggio in moto in particolare voglio dire con qualche digressione su strade bianche è tutto ti ringrazio grazie per i tuoi consigli e per i tuoi video un saluto a tutti gli amici del canale ciao 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 certo il Longin Spirit lo so che è fatto bene l'ho sempre detto io la classica frase te l'avevo detto io poi il discorso sulle moto lì è un po' complicato complesso perché non saprei cosa risponderti io vedo che ci sono persone che si preoccupano di questa cosa io non mi sono mai preoccupato ci sono sempre andato moto scooter o quello che vuoi d'altronde una volta il ragionamento che faccio io è sempre questo una volta negli anni 50 40 gli orologi erano veramente non erano ermetici erano sottili non avevano l'antishock erano veramente semplici no molto molto meno resistenti di oggi eppure e le strade come erano selciati ciotolati strade eppure ci andavano con le motorette con le biciclette bla 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 ce ne saranno state le vibrazioni si però nessuno ti diceva ti sconsigliava di andare in giro con l'orologio bicicletta ci andavano per forza in moto ci andavano per forza io ci sono sempre andato cioè poi facendo un ragionamento la modernità degli orologi di oggi con i sistemi antishock come sono costruiti e tutto cioè le vibrazioni che ha il polso sono a tutti in primis cioè dalla gomma sulla strada dall'ammortizzatore dalla mano sulla manopola che già fa e poi dal polso sull'orologio cioè qua ci arriva una vibrazione che non è una vibrazione così che fosse anche così che non sarà mai sulla moto non è scioccante per l'orologio non sono colpi secchi secchi e istantanei sono ammortizzati è come se il sistema si muovesse tutto insieme non è che si muove qualcosa solamente del sistema io la penso così secondo me non ci sono problemi prossimo video ciao Davide io sono Danio e ti faccio questo video da Firenze Firenze e come puoi vedere non abbiamo solamente la passione degli orologi in comune ma ma anche la passione per la musica e di quella anche un pochino più più spinta la musica seria vedo la maglietta di Guns N'Roses quella lassù mi sembra quella di Motored ma non vorrei dire una castroneria mi sembra quella mezzo bianca non si vede niente cosa ti posso dire niente poi c'è una chitarra tipo Telecaster lì e un'acustica più un set di pedali con gli effetti distorsore compressore flanger chorus e più ne metta con un amplificatore che è veramente da sette nani perché è piccolino è un amplificatore da studio da prova va bene andiamo avanti ti voglio ringraziare perché mi hai fatto diciamo rimettere nel cassetto tutti quei quarzoni regalati nelle varie comunioni cresime e quant'altro che erano oggettini che di quella verità non sopportavo più anche perché quando andavo a letto ne mettevo nel comodino sentivo il ticchettio del quarzo era diventato per me qualcosa di insopportabile perché il quarzo oltre ad avere la batteria che è in fin garda poi ci sono gli imbroglioni è anche fastidioso è proprio fastidioso per l'udito capito è fastidioso c'è gente che è diventata sorda per colpa per colpa dei quarzi quindi io ci starei ben distante diciamo che sono un paio di mesi che ti seguo mi ha risvegliato un po' la passione ma era male e ti voglio far vedere la mia diciamo modestissima perché è un solo orologio e come hai detto nel canale in una puntata va bene anche un solo orologio vabbè per diciamo ripartire con questa passione con un piccolo entry level che mi son fatto per questo natale cos'è? eccolo qua nuovo 6x5 top molto molto carino quadrante blu e l'ho preso perché chiaramente per ripartire non voglio anzi per partire non voglio partire subito con qualcosa che magari è esagerato ma la passione come ben dici tu inizia anche con qualcosa di piccolo ma ben fatto secondo me questo è un oggettino veramente veramente molto carino come puoi vedere qui ci sono alcune delle mie chitarre a casa ho anche un Alex Paul slash style al prossimo il prossimo orologio che spero che sia un Hamilton con khaki field ti farò vedere anche l'altra chitarra grande love rock bravo bravo un video breve questo è l'ultimo ragazzi perché non ce l'abbiamo voglia ora non so a quanto tempo siamo arrivati ma mi sono anche un po' stufato un solo orologio 6x5 military hai scelto perché ora dei 6x5 sport nuovi ora comincia ad esserci una bella scelta perché ne sono usciti 6x5 con la casa slim case military quelli civili normali gmt insomma ora comincia ad esserci una gran bella scelta su questi orologi qua quindi ti hai scelto quello lì nulla da dire su questo orologio qua che secondo me può essere anche uno di quelli che poi ti rimarrà lì per sempre cioè non è che sei obbligato a venderlo per fare 100 euro lo tieni lì ti rappresenta il nuovo inizio della passione i quartoni lasciali a parte non li considerare più bravo aspettiamo il prossimo video adesso basta ragazzi dai mi sono diciamo che siamo arrivati non so quanto siamo arrivati lo vedrete voi sotto nei numerini che poi non siete obbligati a guardarlo tutto d'un fiato questo video vi guardate due o tre episodi due puntate due o tre spezzoni due o tre video poi lo riguardate il giorno dopo fra una settimana è lì guardate quando volete non serve arrivare fino a un fondo però per voi che siete arrivati fino a un fondo tutto in una tirata come si suol dire come diceva l'Apono tutto in una tirata siete arrivati fino a un fondo allora vi ringrazio vi ringrazio per essere arrivati fino a qua vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti